In occasione della morte di Massimo D'Azzeglio, nel bicentenario della nascita del nipote Emanuele, Palazzo Lalscheri si ha ospitato un convegno dal titolo I D'Azzeglio, Cultura, Politica e Passione Civile. La poliedricità e l'impegno civile dei D'Azzeglio, dalla politica alla storia, dall'arte al collezionismo, dalla letteratura alla diplomazia e filantropia, hanno fornito lo spunto per presentare una lettura a tutto campo della storia della società dell'Ottocento, tra il Piemonte, l'Italia e l'Europa. L'idea di questo convegno è nata alcuni mesi fa e abbiamo trovato da subito il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e dall'altra parte dell'Università di Turi, che da subito ha ritenuto doveroso, cioè un dovere storico, ricordare principalmente la figura di Massimo nel 150esimo anniversario della sua morte. E poi questa straordinaria famiglia che ha contato veramente molto nella storia d'Italia, nella storia d'Europa, non dimentichiamolo e soprattutto per quanto riguarda il Torino e il Piemonte, le collezioni civiche, le collezioni d'arte di questa città e di questa regione. Massimo D'Azzeglio si è riconosciuto da sempre nella sua professione di pittore, l'ha veramente considerata una professione, anche se non ha una formazione accademica regolare. Al contrario, la sua presenza a Roma intorno al 1819-1820, il rapporto con la cerchia dei pittori stranieri, arricchisce molto. Il suo contributo proprio nella creazione di una nuova sensibilità romantica a partire dal 1820-1825 sarà decisivo.